Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa DG di Milano. Proseguono in callo gli indici europei questa mattina in scia i cali accusati ieri sera a Wall Street e alla delusione arrivata da Apple. Il report diffuso lunedì dalla Federal Reserve di San Francisco continua ad alimentare un certo dimore tra gli operatori sul possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana. I riflessi ieri non si sono fatti attendere neanche nell'asta T-Note a tre anni con il rendimento che è schizzato all'1,06% massimi che non si vedevano da aprile 2011. Il rapporto di copertura si è testato ai minimi del 2014 se trascuriamo il mese di agosto. La nostra sensazione è che i mercati stiano arrivando all'appuntamento di settembre del FOMC troppo sicuri che la Federal Reserve continuerà ad allontanare l'aumento dei tassi di interesse, complice anche ai recenti dati deboli sul mondo del lavoro. Intanto Apple ieri sera non ha stupito il mercato, gli operatori non sembrano essere rimasti particolarmente colpiti dai nuovi prodotti tra cui anche il nuovo smartwatch che su molti aspetti non risulta essere al passo con la concorrenza. Nonostante la recente debolezza e il percorso rialzista avviato dal Fuzzi Mib dai minimi di agosto rimane intatto, il superamento dei massimi di venerdì scorso in area 21.500 punti creerebbe le prospettive per un allungo verso area 22.000 punti prima e poi 22.600 punti ovvero massimi annuali. Sull'estino milanese si mette in luce Fiat dopo l'addio di Montezemolo alla presidenza Ferrari e l'insediamento di Marchionne. Continuiamo ad avere una view rialzista sul titolo in vista poi della quotazione al NICE che avverrà verosimilmente a metà ottobre. chiave sarà l'IPO di Alibaba il cui successo potrebbe creare un clima di euforia in grado di creare poi un clima disteso per la quotazione di FCA. Per oggi è tutto vi auguro buona giornata e buon trading.